Un uovo nero nasce nel 2010 a Crema, siamo una casa editrice specializzata in libri per bambini e ragazzi con una particolare attenzione ai bambini e ragazzi con difficoltà di lettura. Pubblichiamo libri in simboli per facilitare la lettura, libri con rinforzi comunicativi, libri ad alta leggibilità e narrativa per ragazzi sui temi della diversità. Il nostro titolo di punta è Il mistero del London Eye, premio Andersen 2012 come miglior libro per ragazzi, oltre i 12 anni, che racconta una storia di giallo e mistero in cui il protagonista è un ragazzino con un cervello su cui funziona un sistema operativo diverso, un ragazzino autistico che conduce un'indagine a Londra dove c'è il punto del London Eye. Progetti Futuri, stiamo sviluppando insieme ad altri editori una collana di libri in simboli ma in cui ripubblichiamo libri albi illustrati di successo degli altri editori in una nuova versione. Abbiamo in cantiere altri romanzi dei nostri autori più conosciuti, in particolare un romanzo di Linda Mullally Hunt che è finalista al premio 100 con Un pesce sull'albero e anche dei giochi nuovi perché abbiamo anche una collana di giochi che al momento ha un solo gioco e nel 2018 pubblicheremo un gioco di Fabrizio Silei.